Supporto psicologico agli adolescenti, il Consiglio regionale impegna la Giunta ad incrementare il servizio anche in relazione all'emergenza sanitaria. Uno statuto per la scuola politica a primo passo verso l'apertura della scuola per amministratori pubblici intitolata ad Alessia Ballini. Ok ad Artea e Parco Massaciuccoli, approvati i bilanci dell'Agenzia Agricola Regionale e dell'Ente Parco. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una risoluzione di iniziativa della Commissione Sanità che impegna la Giunta ad incrementare l'offerta di servizi psicologici all'interno del servizio sanitario regionale anche attraverso progetti sperimentali. In particolare dovrà essere valutata la possibilità di attivare un servizio di sostegno psicologico rivolto agli adolescenti per fronteggiare al meglio la loro fragilità emotiva causata dal Covid-19. Approvati anche diversi emendamenti. Iniziamo l'intervista dal Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni. Noi siamo partiti da un'audizione del garante dell'infanzia e della dottoressa Gulino, che è il Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, per farci dare e farci raccontare da loro con un po' di dati quella che è la situazione della nostra regione. In particolar modo per i ragazzi, per i minori, evidenziando come oltre il 70% nel periodo del lockdown ha sviluppato disturbi o disagi legati all'epidemia Covid, come oltre il 22% ha manifestato difficoltà legate al cibo. Insomma, tante forme di disagio, ovviamente in particolar modo per i minori, ma che poi riguardano tutta la popolazione. Siccome il compito del sistema sanitario è quello di prendere in carico a 360 gradi quello che è la salute dei cittadini, quindi il benessere dei cittadini, e sappiamo come la presa in carico psicologica riduca anche poi l'accesso e il consumo di prestazioni sanitarie e soprattutto il consumo anche di farmaci, noi diciamo che ormai, soprattutto in questa fase pandemica e dopo la fase pandemica per superare i danni derivanti, è necessario implementare i punti dove il cittadino può trovare una presa in carico del proprio stato di disagio psicologico. E chiediamo che quindi questo sia, c'è una proposta dell'Ordine dei Psicologi sulle case della salute, quindi sui servizi territoriali di psicologia, chiediamo che questo possa avvenire intanto come una forma di sperimentazione diffusa che poi possa essere estesa a tutta la Regione. Sono molto soddisfatto del fatto che il Consiglio regionale abbia accolto la nostra proposta, ringrazio il Presidente Sostegni, l'idea che si desse un servizio aggiuntivo ai ragazzi, ai bambini, ai preadolescenti, agli adolescenti da parte del servizio sanitario a livello locale è importante. Le aziende sanitarie dovranno implementare la loro offerta di servizi, lo dovranno fare la medicina generale, lo dovrà fare le case della salute, cioè il sistema sanitario a livello territoriale in termini di prevenzione deve dare un aiuto forte ai ragazzi, molti adolescenti rinchiusi nelle loro abitazioni, costretti alla didattica a distanza, stanno vivendo sulla propria persona un dramma, quello dell'isolamento che determina paure, che determina insicurezze, che allo stesso tempo può determinare delle situazioni che se non recuperate o accompagnate potrebbero essere nei prossimi mesi oggettivamente un limite alla loro giovinezza, alla loro socialità, alla loro relazione con gli altri. Quindi questo percorso va accompagnato, è senso di responsabilità assumersi questo elemento, non si tratta di una questione di carattere sanitario, si tratta di una questione di carattere sociale che in questo momento deve vedere il Consiglio regionale vicino alle famiglie, vicino ai ragazzi, ma però vogliamo vedere che questa risoluzione oggi approvata e ringrazio il Consiglio venga poi attuata. Io monitorerò in maniera costante il fatto che venga poi dato seguito a quanto oggi il Consiglio regionale ha chiesto di fare. Serve un servizio aggiuntivo, deve essere pubblico, può integrarsi e convenzionarsi con sistemi privati, c'è una grande professione all'esterno che deve accompagnare i ragazzi prima ancora che questa dimensione diventano questioni di carattere sanitario. E poi una risposta può essere data anche nei pronti soccorsi dove ci dicono che appunto gli accessi di molti adolescenti sono cresciuti per l'emergere anche di sintomatologie o di patologie nuove. Quindi una risposta importante che mi auguro di asseguito e sollievo a tanti ragazzi. Abbiamo votato convintamente a questa nuova proposta di risoluzione che prevede un sostegno psicologico per le persone che in questo momento sono in difficoltà. E dire persone in difficoltà significa non escludere nessuno, perché tutti quanti noi siamo in estrema difficoltà, difficoltà economica, difficoltà di relazione, difficoltà di stare con gli altri. Pensate a quanto è grave il fatto che nessuno di noi si possa toccare, che nessuno di noi si possa abbracciare, che i nostri figli non possano dare un bacio ai propri nonni, perché in quel bacio ci potrebbe essere la pericolosità di contagiare il nonno e quindi addirittura di perderlo. E purtroppo in alcune famiglie è addirittura successo. Viviamo un momento dove l'aiuto, il supporto psicologico di una persona che è formata per contrastare anche elementi di grande criticità che in ognuno di noi si stanno creando è estremamente importante. Quello che deve fare la Regione Toscana è finanziare alcuni supporti psicologici e sfatare anche il mito che se vai dallo psicologo sei uno malato, se vai dallo psicologo sei uno che non si potrà mai più riprendere. Non è assolutamente vero. Ve lo dice uno che nella propria vita ha fatto un'esperienza di un percorso sia con lo psicologo che con lo psichiatra per un motivo mio personale e quel percorso lì mi ha aiutato. Perché è un percorso che ti fa vincere alcune paure, perché è un percorso che ti sostiene e perché non bisogna vergognarsi nemmeno di dire che si va dallo psicologo. Perché andare dallo psicologo è come andare dal medico. Il medico ti prescrive una medicina, lo psicologo ti prescrive un percorso dell'anima e vi assicuro che quel percorso dell'anima può non soltanto salvare la tua vita, può salvare la vita degli altri, ti aiuta a vivere molto meglio. È inevitabile ed è sotto gli occhi di tutti noi genitori che i ragazzi dopo un anno, ormai è un anno di chiusure e restrizioni, stanno soffrendo moltissimo per l'assenza di una socialità fisica reale con i loro compagni di scuola, con gli amici e questo li sta penalizzando molto. Io credo che sia non soltanto necessario, ma doveroso per il sistema sanitario farsi carico anche di questo problema, perché se da una parte dobbiamo cercare di tutelare il più possibile dal punto di vista della salute, quindi dall'evitare il contagio, non possiamo però dall'altra parte non farci carico di quello che adesso è un disagio che in alcuni casi, l'abbiamo visto con dei casi di cronaca, sta diventando un vero allarme sociale. Stiamo tutti vedendo casi di giovani che si riuniscono anche in maniera poco attenta, poco accorta, addirittura alcune volte organizzano online risse oppure eventi vandalici nelle grandi città. Dobbiamo veramente tenere in considerazione la loro salute e non solo quella fisica. una mozione condivisa da tutto il Consiglio, perché purtroppo, e dico purtroppo, arriva in un momento drammatico, perché comunque arriva dopo un anno esatto dall'inizio del primo lockdown e come abbiamo detto e ripetuto tante volte, un po' tutti in questo anno, i minori, i più piccoli, i bambini sono stati sicuramente tra le fasce più colpite da questa situazione. L'età del presviluppo, l'età della preadolescenza, l'età in cui i bambini sviluppano non soltanto le capacità cognitive, l'avvio all'istruzione, alla scuola, ma anche e soprattutto l'avvio alla socialità. Ed essere privati della socialità all'improvviso da un giorno all'altro è stato senza dubbio un trauma che ha portato a una maggiore richiesta di sostegno anche psicologico e quindi ben venga che la regione vada incontro a questa necessità oggettiva, della quale avremmo fatto ben volentieri a meno, ma che è un dato di fatto che ci sta lasciando in realità questa pandemia. Voltiamo pagina. Il Consiglio regionale ha approvato lo statuto della Fondazione della Scuola Politica e amministrativa intitolata da Alessia Ballini, sindaca di San Piero a Sieve e consigliera regionale scomparsa dieci anni fa. Si tratta in sostanza della scuola per futuri pubblici amministratori. Sentiamo le interviste. Sì, abbiamo deciso con l'Ufficio di Presidenza, insieme al Presidente Mazzeo, di portare questo atto in aula. Abbiamo dato tempo al Consiglio di poterlo discutere nelle prossime settimane. crediamo che la formazione politica sia un dovere da parte di chi in questo momento ha avuto la fortuna, l'opportunità o anche l'intuizione o in alcuni casi anche il destino favorevole di poter fare politica. È un privilegio, in alcuni casi è un'opportunità, in altri è un lavoro, in altri deve essere un'opportunità. Cioè noi dobbiamo consentire a tutti di poter giocare la propria opportunità. Per consentire a tutti di avere l'opportunità di ricoprire domani un ruolo che oggi noi magari ricopriamo perché eletti dai cittadini, dobbiamo affiancare alle opportunità della democrazia, le opportunità del sapere e della cultura. Sapere e cultura si determinano mediante formazione e chi in questo momento ha delle opportunità le deve concedere domani agli altri. Quindi è un grande assunzione di responsabilità che coinvolge il Consiglio regionale, coinvolge l'UPI e i comuni. Quindi province, comuni e regione insieme per dare opportunità ai giovani di diventare magari un domani loro stessi consiglieri regionali. Noi crediamo che l'idea che la regione toscana debba istituire una scuola politica sia fuori contesto in questo momento storico e soprattutto non opportuna. Le scuole di politica si fanno all'interno delle comunità. Un tempo si facevano nell'associazionismo. Tutt'oggi si fanno ancora all'interno dei gruppi politici. Noi stessi facciamo questo tipo di scuola ma non certo a carico della collettività. E questo secondo me è fondamentale. Il fatto che sia indirizzata poi soltanto ai giovani lo limita ulteriormente. Però secondo me è proprio sbagliato concettualmente e fuori tempo data la contingenza, la situazione di emergenza in cui stiamo vivendo. Diciamo che il principio a noi convince, cioè la necessità che la regione toscana investa per formare anche gli amministratori del territorio. Quindi a noi piace il principio per il quale un giovane che si avvicina alla politica e che si trova a amministrare abbia una guida, abbia una formazione, abbia un'istruzione. Ci sono degli aspetti che invece convincono un po' meno. Ecco perché ancora non è arrivata in porto la nascita della scuola. Tra questi ci sono sicuramente l'assunzione del personale. Vogliamo capire se questa scuola ha dei costi o no. Perché oggi è impensabile dover ricadere sulle spalle dei cittadini per formare gli amministratori che dovrebbero amministrare i cittadini. Un altro aspetto che ci convince poco è il mancato coinvolgimento per esempio delle università. In Toscana abbiamo tre università di eccellenza che a nostro modo di vedere potrebbero contribuire alla formazione di questi futuri amministratori. Il principio per il quale l'amministrazione forma anche gli amministratori invece ci piace. Quindi speriamo di poter arrivare presto a un soggetto che non ha costi ma che ha dei benefici per i cittadini. La nostra posizione è chiarissima. Come Forza Italia fin dall'istituzione di questa legge che prevede la scuola di formazione politica abbiamo detto di dare 100.000 euro in un momento difficile come questo per imprese e per famiglie ad una fondazione che deve formare i politici è estremamente assurdo. Per noi la formazione politica è quella che fai sul campo. Fai il consigliere di quartiere, parli con le persone, fai il consigliere comunale, stai a giro, produci atti, stai al fianco di chi l'attività politica la fa ogni giorno. Questa è la formazione politica. Non occorre per noi fare una fondazione, mettere 100.000 euro, magari assumere un direttore generale, un revisore dei conti, alcuni dipendenti per fare formazione politica. La formazione politica la si fa sul campo e soprattutto in un momento difficile come questo non si possono mettere 100.000 euro per costituire una nuova fondazione. È assolutamente illogico, per noi anche inspiegabile ai cittadini. Ecco perché ci siamo opposti dall'inizio, ecco perché abbiamo chiesto un rinvio al prossimo Consiglio regionale. Cambiamo ancora argomento. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio preventivo economico per il 2021 di Artea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Il bilancio prevede di chiudere in pareggio con un valore della produzione di oltre 3.278.000 euro. Sì, abbiamo approvato il bilancio preventivo per il 2021 del bilancio di Artea, che ricomprende tutti i fondi europei, FEAGA e FEASR. Sono molto importanti perché gestiscono una parte di un settore strategico per la nostra regione di oltre 3 milioni di euro e 137.000 prese in carico di imprese e di pratiche. Adesso siamo nella fase cruciale, infatti per il 2021 dovremo ultimare quella che è la gestione e la riscossione e il pagamento della fine fondi di questa fase, quindi fino al 2023 come data ultima, e cominciare a programmare il 21-27. Quindi con prospettive interessanti, perché ricordo che Artea non gestisce solo la parte dei fondi agricoli, benché preponderante, ma anche fondi europei, programmi regionali, extra agricoltura. Quindi rimane un ente per noi strategico che ancora di più in questa fase dovrà occuparsi di relazionarsi con le aziende e con la regione per far sì che si riescano a spendere, come è ben fatto fino ad oggi, tutti i fondi che arriveranno a questa regione. Il bilancio di Artea procede sugli stessi binari che abbiamo seguito finora, ma è il momento di un cambio di passo. Dobbiamo cominciare ad attivare maggiormente la digitalizzazione di quelli che sono i servizi alle imprese e per fare questo dobbiamo prevedere anche dei cambiamenti nella struttura dell'ente pagatore. Ancora oggi, come nel primo anno in cui ho fatto il mio ingresso in Consiglio regionale, ci sono dei fortissimi ritardi in alcuni pagamenti, che significa che alcuni imprenditori, anche i giovani imprenditori e le loro famiglie impegnano del denaro per aprire un'azienda, aprono fidensioni, conti in banca e quant'altro e magari si vedono arrivare dopo due anni i soldi che magari erano riusciti ad ottenere grazie a un bando di finanziamento con giovani sì. Parliamo ancora di bilancio, ma stavolta del parco di Massaciuccoli, via libera al bilancio preventivo economico per il 2020, illustrato dalla Presidente della Commissione Ambiente, Lucia De Robertis, è stato approvato a maggioranza. Unanimità invece sulla risoluzione collegata presentata da Elisa Montemagni della Lega. Sentiamo proprio Montemagni e poi Francesco Petrucci di Fratelli d'Italia. Oggi è arrivato in aula il bilancio previsionale del 2020, quindi arriva con un anno di ritardo, e peraltro non è stato ancora approvato il bilancio d'esercizio del 2019. Questo significa che quel parco non ha capacità di organizzare il proprio lavoro, non ha capacità nemmeno di poter avanzare delle proposte e portarle a termine in maniera organica e omogenea, perché è vero che si può lavorare in dodicesimi. Capiamo che quel parco è stato commissariato proprio per problemi che ha avuto in passato con i conti, ma così non riusciremo mai a ripartire realmente su un pezzo di territorio che è fondamentale e importante. Su questo atto noi abbiamo collegato poi una proposta di risoluzione che è stata approvata all'unanimità, che trattava la parte del parco che riguarda il lago di Massaciuccoli. Ecco, quella parte lì è l'area umida più grande della Toscana, è praticamente tema di discussione all'interno del Consiglio regionale, anche della scorsa legislatura. Abbiamo approvato tantissime mozioni che andavano dal recupero delle bilanze, dal ricovero dei barchini, alla qualità dell'acqua, alla microcistina, piuttosto che ai temi che purtroppo ci sono ancora delle bonifiche di alcuni territori, visto che in alcune zone abbiamo ancora sedimenti di rifiuti che cadono nell'acqua. Ecco, siccome ci sono tante mozioni approvate, è stata approvata nei cinque anni precedenti, anche portata da me, abbiamo chiesto di far venire in commissione i due assessori, Monni e Baccelli, per cercare di risolvere quelle problematiche che ormai escono dalla commissione in cui ero proprio con Monni e Baccelli la scorsa legislatura, che loro bene conoscono, ma che ora agli atti devono seguire anche dei fatti. E quindi pensiamo che in questa legislatura si possa cercare di lavorare, partendo proprio dalla commissione, cercando di capire cosa i due assessori hanno intenzione di fare per quel territorio. Nel parco di San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli insistono moltissime attività economiche, penso all'ippodromo, ai centri visite, ma anche ai ristoranti, ostelli e varie altre attività, che come tutte le attività scontano la crisi dovuta alla pandemia, alla riduzione del 70-80, anche 100% dei guadagni. In questo caso la Regione Toscana può intervenire direttamente, senza chiedere ad altri di farlo, ovvero riducendo i canoni di concessione o di affitto. Mi sembrerebbe un'iniziativa semplice, scontata, ma soprattutto giusta, ovvero a fronte di un calo drammatico e importantissimo dei visitatori e quindi dei clienti, di ridurre conseguentemente anche i canoni di affitto e di concessione. Per questo ho presentato un ordine del giorno, in questo senso collegato al bilancio del parco di San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli, un bilancio tra l'altro abbastanza strampalato, che fa acqua da tante parti, che arriva in grave ritardo. Mi dispiace molto che la maggioranza abbia votato contro, perché si fa con una mano, ci si straccia le veste per le attività che sono in crisi, si fa appello al Governo e ad altri enti che intervengono, poi quando può essere la Regione a intervenire in maniera diretta, diminuendo per esempio canoni di affitto e di concessione, invece si fa come Ponzo Pilato, ci se ne lava le mani e non si interviene. Nel parco ci sono anche tantissime attività economiche che contribuiscono a far conoscere il parco, che contribuiscono alla ricchezza del parco, che contribuiscono al mantenimento del parco, vanno aiutate come riducendogli gli affitti a fronte di un calo drastico di visitatori e clienti. La Regione Toscana, la maggioranza, la Regione Toscana oggi ha detto no, noi continueremo questa battaglia, anche questa battaglia. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.